La situazione la vedo abbastanza complicata perché quando si tratta a parole sono tutti bravi, però i fatti ci hanno insegnato che negli anni li fanno in pochi. Cosa dovrebbe fare il sindaco Piunti? Secondo me dovrebbe controllare e monitorare queste cordate, vedere chi può essere l'ideale per tirarla avanti. Speriamo in un futuro migliore di questo, del presente e del passato che abbiamo avuto, perché così non possiamo andare avanti noi tifosi della San Mettese. Noi viviamo solo con la speranza adesso. Cosa dovrebbe fare il sindaco Piunti? Sul sindaco possiamo anche lasciare perdere, non commentiamo l'amministrazione comunale. Speriamo che qualcuno la prenda, ci faccia rimanere nella categoria, però sembrano che le cose siano difficili. Le cordate sono solide? I nomi sono tanti, adesso gli avvoltoi ce ne saranno tanti. Speriamo che sia persone serie, che ci portino solidità e tranquillità. Da San Benedettese è puro sangue di settima generazione, la samba è sempre stata la samba. Le cordate potrebbero essere solide. La San Benedettese ha 2 milioni di debiti, 3 milioni di debiti. È possibile che non riesce qualcuno a salvarla? La categoria? Mi sembra strano. Io faccio una domanda e voglio una risposta. Com'è possibile? La San Benedettese ha 3 milioni di debiti, 2 milioni di debiti, con 700 mila euro che gli devono ridare a ottobre, a settembre, la Lega non riesce a trovare nessuno? Il sindaco Piunti cosa potrebbe fare? Il sindaco Piunti tante cose potrebbe fare. Lui è il sindaco di San Benedetto, il primo tifoso da San Benedettese, potrebbe trovare anche lui imprenditori.